Oggi, visto che mi sono portato il mio modello Leica, che non ha l'esposimetro, ho portato l'esposimetro esterno. Quindi vorrei approfittare per discutere una cosa che magari in fotografia ormai pochi sanno la differenza tra luce riflessa e luce incidente negli esposimetri. Quando voi utilizzate i telefonini, le videocamere, le macchine fotografiche, normalmente state lavorando per luce riflessa. Che cosa vuol dire? La macchina, diciamo macchina fotografica e poi può essere tutto il resto, misura quanta luce riflette il soggetto che state andando a riprendere. Questo vuol dire che può essere ingannata da quanto scuro o chiaro sia il soggetto. Perché in teoria la perfetta misurazione si avrebbe se il soggetto riflettesse il 18% della luce. Come diciamo i famosi cartoncini grigi 18% eccetera. Ma naturalmente se state facendo una foto per esempio a una persona di colore nero è probabile che rifletta molto meno che il 18% e che quindi l'esposimetro venga ingannato. Lo stesso vale al contrario. Se una persona è troppo bianca avrete l'esposimetro ingannato al contrario di che se fosse una persona di colore nero. Questo non vale solo per le persone. Vale per esempio se state facendo una foto sulla neve e allora il sole che si riflette su quel bianco abbagliante probabilmente se non prendete degli accorgimenti vi porterà una fotografia grigiastra dove il bianco diventa quasi grigio. Perché? Perché andrà a sottesporre. E allora se è vero che tutte le macchine fotografiche eccetera avranno diciamo una misurazione in luce riflessa e che questa misurazione è difficile che sia sempre appropriata quando c'è bisogno di una misurazione critica si utilizza la luce incidente. La luce incidente praticamente si va. Mettiamo che sia la foto di una modella per una rivista di moda dove la non solo ha messo a fuoco ma anche l'esposizione è critica quella sulla pelle. Allora che si fa? Si prende l'esposimetro esterno questo per esempio un Sekonic lo si mette sotto il collo della modella e si fa una una misurazione. Per esempio qua mi dice che a un 5 centesimo avrò bisogno di 2,8. Questa sarà una misurazione molto più precisa che se io prendessi spostassi la lumisfera qua e mi facessi verso di me una misurazione in luce riflessa che come vedete mentre la mi dava 2,8 qua mi da 5,6 e allora uno potrebbe dire perché uno non fa sempre quella incidente visto che è più precisa perché quell'incidente devi essere accanto al soggetto che vai a riprendere quindi nel caso di una modella un modello che stanno là accanto a te puoi andare e prendere la la misurazione se stai facendo una fotografia a un albero a 5 chilometri non vai 5 chilometri esagero però vai fino a là a controllare quanto quanta luce riflessa hai in quel punto no diventerebbe complicato e per questo che in generale si utilizza molto di più la misurazione per luce riflessa perché è più semplice poterla fare oltretutto mentre quella in luce incidente ha senso fondamentalmente quando le condizioni di luce non cambiano in continuazione perché sennò bisognerebbe stare là accanto a cosa volete fotografare e controllare ogni momento che misurazione avete per questo per esempio in alcuni ambienti critici addirittura si utilizzano delle macchie fotografiche che possono comunicare via bluetooth col con l'esposimetro diciamo sono casi molto particolari ma in generale quella per luce incidente si utilizza solo quando siamo in situazioni di luce controllata quindi uno studio dove sappiamo tutti i flash a quanto sono settati non li andiamo a cambiare più quindi la luce sarà sempre costante su tutti gli scatti perché possiamo prendere una sola misurazione e poi non ce ne servono altre diverso è quando siete all'aperto per esempio dove basta che una nuvola passi nel momento in cui scattate e avrete delle misurazioni completamente diverse ecco perché conviene in quel caso utilizzare la luce la luce la luce la luce riflessa e anche se non è la più precisa spesso spero di essere stato chiaro l'unica cosa volevo dire che per finire indubbiamente è scomodo utilizzare un esposimetro esterno con per esempio questa macchina infatti io penso prendere non ora perché ho altre cose da prendere ma un esposimetro esterno da mettere qua sopra il la colt shoe perché non è neanche una slitta flash in quanto al tempo ancora non avevano i pin per i flash queste slitte e quindi puoi poter utilizzare più semplicemente che non dover andare ogni volta a prendere il l'esposimetro anche se come ho già dimostrato in un video precedente che avevo fatto quando ero ancora in vacanza a Reggio Calabria che ho fatto un intero rullino completamente senza esposimetro e non ho sbagliato neanche un'esposizione se non magari pochi di pochissimo perché perché se aveva poi vi fate l'occhio anche l'esposimetro non è sempre necessario è utile anche utilissimo a volte però non del tutto necessari se imparate bene la regola del sanni 16 grazie a tutti 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 grazie a tutti